I centri pubblici per l'impiego sono molti, ma intermediano solo una piccola percentuale di rapporti di lavoro. Le agenzie private sono in crescita, ma lavorano prettamente al centro nord. Per Italia Lavoro è necessario cambiare il sistema del collocamento. Io credo che sia assolutamente necessario. Credo anche che sia molto complesso. Un processo di aggiustamento strutturale sarebbe una riforma strutturale molto complessa. La complessità è dovuta a un fattore istituzionale. Il fatto che le dinamiche del mercato del lavoro e le politiche del mercato del lavoro sono divise tra regioni e Stato, sono cosiddetta materia concorrente. Questo non agevola affatto le operazioni. Dall'altra parte dobbiamo anche riconoscere che in questi anni il Paese non ha investito nei centri per l'impiego, non ha investito nel meccanismo di domanda e offerta. Gli stessi privati non sono attori protagonisti, lo ripresenti solo nel centro nord. Quindi se noi facciamo una cartina dell'Italia, vediamo che dove sono i centri per l'impiego sono le agenzie e dove non ci sono i centri per l'impiego non ci sono neanche le agenzie. Ma per cambiare il sistema del collocamento occorrono investimenti significativi. Abbiamo fatto una proiezione. Se oggi avessimo i centri per l'impiego come in Germania, in Francia, in Inghilterra dovremmo assumere 50.000 persone. Mi pare un traguardo difficilmente realizzabile nei prossimi anni. Quello che allora dobbiamo fare è molte tecnologie, lavorare sulla piattaforma tecnologica, fare integrazione tra pubblico e privato e certamente coinvolgere le imprese.